Da una parte c'è il comune di Firenze con il sindaco Dario Nardella che ritiene il Green Pass necessario ovunque e subito. Dall'altra il presidente della regione Eugenio Gianni che è favorevole ma soltanto per i luoghi dove ci sarebbe il rischio assembramento. Lago della bilancia potrebbero essere i vaccini somministrati. Nel caso in cui la campagna non dovesse procedere come ci si aspetta, il sindaco di Firenze si dice pronto a firmare ordinanze per consentire l'accesso ad una serie di luoghi soltanto ai possessori di Green Pass. Di avviso diverso il governatore soprattutto per quello che riguarda bar e ristoranti dove secondo lui non c'è bisogno di restrizioni ma sono sufficienti le normative già in vigore. Dal mondo del lavoro c'è chi come Confindustria spinge per l'obbligo di Green Pass per i dipendenti. Nel caso in cui non lo avessero verrebbero spostate da altre mansioni, ha spiegato il DG Francesca Mariotti. In un campo già disseminato di dubbi se ne aggiunge un altro fondamentale, chi controllerà i Green Pass? Da Roma non arrivano indicazioni, prefetture, autorità, portuali e aeroportuali sono ferme, ognuno nel proprio ambito. E mentre i contagi continuano ad aumentare, il tempo per le contromisure stringe. Lo spettro da scongiurare sono nuovi lockdown autunnali.